Vieni qua, io ora sto alla piana perchè stengo qui, pure qui vieni qua, ok eccoci fa vedere l'acrobazia, il grande Tommaso, avviciniamoci un po' e vai, ancora ancora, bis, bis, vai, e vai, vai, questo è allenamento, guarda, guarda che attradicità, guarda, sfido chiunque a farlo ha 69 anni, ha 69 anni, ha 69 anni, guarda che roba Tommaso, guarda, non bisogna stare fresca, ha 69 anni a luglio quante volte l'hai fatto? Quattro volte